Scusate, sono Luca Callà, ciao a tutti, ballo all'Anime Academy di Genova, nella prima baby compagnia in Italia, l'Experience Company. Ballo da quando sono nella pancia di mia madre e ho iniziato a studiare danza a sei anni. Mi piace ispirarmi a grandi artisti e differenziarmi dal gruppo con stili completamente diversi. Ballo danza contemporanea, classica e moderna, ma aggiungo anche altri stili che invento io. Mi piace improvvisare perché penso che sia un ottimo modo per trasmettere ciò che hai dentro. Sono un ragazzo con molti sentimenti, molte emozioni. Niente, mi trema la mano qualche volta perché è un mio problema, però fa parte di me. Questo sono io. Grazie. Grazie.